buonasera a tutti è partita la faccia da fronte è partita la magnum vedere il nostro nuovo cantante david assaloff comunque vabbè la cosa seria è che abbiamo iniziato a fare le prove vedete anche la cassa perché questo polsettino qua sta andando meglio un po meglio non troppo meglio perfetto questo lo tagliamo perfetto perché siamo in fascia protetta giulia niente fa fresco è una prova con il fresco intanto antonio tenta di appoggiarlo ciao a tutti siamo parte gran parte stiamo tornando perché questa è una sala prove non sembra e stiamo tornando questa è una sala prove non sembra quello è un basso questo è un carretto mentre quello è un ventilatore e nonché un altro ventilatore e tuttavia jennifer lopez la morte in diretta no stiamo tornando e questa sì è una minaccia ha fatto la taglio questa no era bella questo era bella ce la vuoi mettere vabbè quello ciao frizz quello è frizz quello è frizz quello è con lo stelte si lui suona via skype ecco la petto cam ragazzi allora è una petto cam ormai non hai scampo questo simbolo aspetto a carello vado avanti a carello adesso il batterista che spiega la strumentazione del chitarrista perfetto allora questa è inutile questa sinistra praticamente fa il carburatore bianco esatto il filtro da benzina è importantissimo perché è importantissimo tu sei più tecnico perché tu sei il nostro petto l'altro chitarrista utilizza un carburatore miconi 34 vado con la piatta con annesso filtro benzina questo è un variatore colini rulli che tremano perché c'è il tremolo perfetto turbo overdrive perché abbiamo abbiamo rimediato una turbina da una uno turbo di rumeni perfetto la c boost è a c colua boost col booster mbk abbiamo rubato da un booster mbk e questo proviene da un ristorante cinese questo però un accordato di cromatico della boss che è l'unica cosa tutto questo viene collegato a chiaramente una batteria di una ritmo come potete vedere è una 110 hp questa è notare sopra l'autoradio autobox che c'è direttamente dagli anni 80 super 8 non so se state vedendo inducerò molto su questa inquadratura poi spiegherò perché metterò anche dei riferimenti il tutto ha collegato a una prender telecaster appartenuta a pippo franco poi tagliamo vedete il paio nelle lucine 66 se fa sei il numero del diavolo e poi ci sono tutti dei delle cose che lui non usa non collega però ecco questa più o meno la strumentazione del nostro chitarrista e con questo è tutto la linea te maurizioso e mandi si è stata siamo possiamo anche passare oltre c'è stato un momento ora che è brutto mamma mia